E' stata una vera emozione stamattina passare per Giulianova Paese e vedere le maestranze della ditta del signor Coccia, che ringrazio pubblicamente, cominciare a montare l'impalcatura per il restauro della statua di Vittorio Emanuele II ad opera poi della restauratrice Valentina Muzzi con le sue collaboratrici Laura Petrucci e Dilaria Ercoli. Ringrazio pubblicamente l'amministrazione, in primis il sindaco Ivan Costantini e soprattutto Sirio Maria Pomante che si sono adoperati affinché la realizzazione potesse essere avviata. Un'opera che il gruppo medico d'archivio ha voluto fortemente per ringraziare la cittadinanza e i cittadini di Giulianova in occasione del suo venticinquesimo anno di attività che proprio iniziò il 26 luglio del 1998. Grazie di nuovo a tutti gli attori che hanno preso parte a questa opera. Grazie a tutti gli attori che hanno preso parte a questa opera.